Amore, sei pronto? Sì Hai così? Mamma mia, sei troppo grossissima Sei troppo fresco Ciao ragazze No, ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Eccoci qua per un nuovo video con Dario Al casa di Dario con la mamma di Dario Siamo qua per fare la challenge del cibo adulti contro cibo bambini Già abbiamo preparato tutto Ci abbiamo la nostra aiutante che è la mamma di Dario Salutate Ciao Salutate No, dite ciao Ciao Ecco I primi piatti quali sono? Ok Ok Poggiate qua E ce lo scoprile Cosa è capitato se cibo per bambini a te Ci può guardare tutti a me o al contrario Vai Un, due, tre Via Via No Allora A me è capitato un'omogenizzata mela banana E a Dario La banana La mela e la banana Cibo per l'anidio Eh, perché è una frutta della nocca Ah ok No dobbiamo mangiarlo ragazzi Oddio A me è una pappina L'odore Senti l'odore Amici Mi sono fatto un cibo Lei è la da pane Sì, ma volete un po' Ok È la cosa da frutta dei bambini Ma però è buono Mmm Mmm Buone Buonissimo amore A me piace È tipo un frullato E' buono No, a me piace la cosa Buono Ah, a me piace la cosa Ah, è un po' dove è il buono Mela banana, buonissimo Ma è un po' Ho mogenizzato mela banana E anche senza zucchero Deve essere Oh Ma sei come una bimba Ma è un po' dove si mangia le bambini e poi le spuntano Amore, com'è? Amore, com'è? Anche più buone del tutto Mmm Vabbè Vabbè, io stai fanno L'avevo tutto già mangiato qua E' buonissimo Ma è stato Che lavoro Ah, è stato E' buonissimo E' buonissimo Mmm Buonissimo Ok No, andi? No Non è che ti vado a dare cosa a fare? Ma scusa Va bene Io lo vedo tutto A buonissimo Passiamo al secondo piatto Vediamo cosa sarà Su Spas Mi raccomando mettete like se vi piace questo genere di video con Dario Ma ti pollici in su per Dario, non è vero Se mettono avanti like facciamo anche cibo, altre cose sul cibo Vai, vai Wow 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 Che bello, proviamo che cos'è? Capuccetto russo Siamo pronti? Ma è la nostra camerina che ci porti mangiare Uno Due Ma che stai? Eh, stai la quattro Stai la quattro Stai la quattro Tre Via Oh Non ce l'ho fatto No, no, no Non vale A te cos'è capitato? Ah, marcheroni No, omogenizzato al pollo E invece a me più stella al pollo, cibo per adulti a me Yeeey Pensa che io più stelle non li mangio mai Pupi Avete visto che mi sottiscono che li mangerò? No, non è il pollo E fra il pollo E fra il pollo Mmm, è che buono E fra il pollo Com'è la buona? Ascino Ascino Mh Poi a me si mangiano questi pollo E fra il 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 pollo Ahahahahahahah Ahahahah Ahahahahah Ahahahah Cosa accacco Dottio Ma è una cosa schifotissima amore Certo Cioè la faccia mangiare Ma Ti faccio di fare che è schifo Oh Oh No Schifo Per un lavoro Mmm il mio figlio non mangerà così no, io preparerò il mio figlio cibi naturali lo preparerò io, non darò mai mangiare le taglie si, prenderò la carne e le frullerò poi ci metterò le zucchine eh, trovo che questi qua non lo può più chiarare ma come si fa andare a mangiare? mi faccio vedere che il gelino è un pochettino guardiamo al terzo piatto guardiamo che capita una bella pizza guardiamo... guardiamo... questo è buono secondo noi cappuccetto bianco vediamo cosa sarà 1,2,3 via cosa è capitato? formaggio che formaggio è uguale? formaggio prima sale uno dei miei preferiti per adulti a me è capitato il formaggio un pochettino non è buono non è buono tutto non è buono non è buono no, quello che ha mangiato veramente questo è il sapore ahah aprire? portate una volta grazie stiamo a numero 4 cosa capiterà? guarda 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 grazie a ": a me e prosciutto e te holy oh sei un bambinone ma ci siamo verci fai me sentire dietry pa no ma no why ma no Ma cosa? L'ho posto scaduto? Ma come fanno a puzzare così tanto? No, vi giuro, ma... Cioè, una puzza, io mi mangio il mio proprio giusto. Mi riega, amore. Com'è? No, sei buono. Sei buono, però puzza. C'ha divisi bovito, ad ora. No. Odio il mio proprio giusto. No, è buono. Ma stai già fatto come prima. È buono, hai scelto. Allora, dà gioco, vai fuori, va. Giura. Guarda. Guarda, non c'è più tutto. È un gel. È buono davvero. Fammi da vedere qualche, te lo scusare. È buono, amore. È buono. 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 No. È buono. 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 alla fine si alla fine si hai butto tutto brutto tu sono alla fine una cosa buona meno male hanno il tuo bambinone l'abbiamo accortizzata che cosa? vai a poco ti fa male come butto? butto bello buttalo nella pancia a posto butto tutto fenomenale lui è il bambino dell'antella ma c'è il bambino dell'antella delle pareti che interassino io ragazzi questo è tutto speriamo che questo video vi sia piaciuto lasciate un like per Dario mi raccomando iscrivetevi al canale e richiedeteci altri video ciao saluto anche dalla nostra assistente ciao a Maria io esco ciao 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 Grazie a tutti.